E va, e come dicevo il vino, mi piace la mattina, no, mi piace il pomeriggio, no, mi piace la sera, sì, perché come si dice, il vino Pilotti fa bene alle fronti, cioè ai cervelli. Ed è per questo che stasera abbiamo qui Antone Ammirati. Bebaba Lula, she's my wife. Bebaba Lula, all my wife. Bebaba Lula, she's my wife. Bebaba Lula, love my wife. Bebaba Lula, she's my wife tonight. Bebaba Lula, she's my wife. 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 Bebaba Lula. 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 She's my wife. Bebaba Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.